E nella notte di plenilunio si alzerà all'orulato del lupo mannaro. Il terribile grido farà tremare gli uomini, costringendogli a chiudersi nelle loro case. Allora il lupo mannaro si incamminerà alla ricerca di cibo, sbranando chiunque si presenterà sul suo cammino. Ti piaceva Fabian, eh? M'eri pazza di lui. Ti ho visto fare l'amore con Fabian. Si può desumere che il decesso sia avvenuto in seguito a una massiva emoragica, con conseguente sciocche ipovolemico. Le ferite, le chimosi, le lacerazioni sono di origine incerta, quasi animalesche. Incerte? E animalischi. No! Daniela, Daniela, sei tu ? Ma dove sei ? Non è ancora il momento, non cercarmi papà, io sto bene Sono felice come non mai, papà, e spero di riabbracciarti presto Maledetto ! Stragia ! Porca, porca ! Ora vedrai ! Lasciami, Maledetto ! Sono capace di scoprire di... Maledetto ! Maledetto ! Maledetto ! Maledetto ! Fuori ! Andate bene ! Andate via ! Maledetto ! Maledetto ! Mia figlia... È malata ! Molto malata ! Purtroppo ho un dovere dal quale non posso esimermi ! Devo trovarla e impedire che commetta altri gesti inconsulti ! Adesso è tutto chiaro ! È Daniela che ha ucciso il mio Fabian ! Maledetto ! Già... Maledetto ! Eilì ! Maledetto ! Maledetto ! Aaaaaah!